Ciao a tutti amici di Element, benvenuti in un nuovo video di Hearthstone, sono qui con Acidlama Bella a tutti ragazzi Oggi siamo in Brawl, siamo in questa nuova Brawl cooperativa E l'intenzione di questo video, o non so se sarà uno, se saranno magari due, è di giocare con tutti i miei cari amici videomaker di compagni di sezione Quindi partiremo oggi con Acidlama per poi andare avanti con gli altri Ma no spoiler, godetevi il video e vedremo come andrà avanti Premettiamo che per noi è la prima partita Io ne ho aspettata una oggi per vedere com'era, ma è la prima che faccio Per te Cristian anche mi sembra sia la prima, giusto? Sì sì, un po' a sorpresa, adesso vediamo un attimo, prima Brawl cooperativa Vediamo un po' che si sono inventati stavolta, ho visto qualcosa, ho spulciato qualche immagine Però niente di sicuro e credo già sclererò questa partita Probabile Già metto un po' ti Ma che carte hai tu in mano? Roba bruttissima, ho un arcane golem No tienilo, quello è buono, quello è buono che mi dà umana Sì giusto, allora ho un arcane golem Un trog un holy champion e una light of denaro ma non sembra male comunque no no io ho le dancing sword per farti pescare una carta che quasi quasi a sto punto la tengo il vendor ma non penso che 4 di vita non mi sembra così importante e lo scudo divino quello da uno di mana ah la squire no no la magia hand of protection io la cambio quella cambiala uh stalag e holy light ok ho pescato una cura questo è il boss gear master mechazod oddio ma è carinissimo carta 2.95 what allora mechazod vince ho visto adesso la vita ma stai scherzando assassinate così a caso queste questa intelligenza artificiale ok dai perdoniamo mamma blizzard perché è il primo tentativo di una cosa del genere quindi va bene ma guarda poi è sempre movimento cioè pare che va a fuoco bellissimo bellissimo double zap ok eccola la vai due le danno subito quindi abbiamo già visto due delle abilità io ho pescato un'altra cura e ho pescato fiola lightbane questa non è male no però mi tocca fa pedina ah si minca la cattiveria wow cioè seriamente ma solo bm well played allora greetings greetings allora qua posso giocare o un loot order che ti farebbe pescana carta poi che non è male oppure coin arcane golem mi ricordo tantissimo un boss non un boss ma l'ambientazione di un di un di una instance di world of warcraft di wrath of the lich king non mi ricordo quale ma è uguale cara tutta con con i giganti di questi colori qua hai ragione che hai tu ho il loot order oppure ti do due carte con l'oracle oppure arcane golem che preferisci mana o carte è uguale vai quello che vuoi vai allora carta ci sta te teniamo il coin per ora 2 l'attacco what ok acqua acqua uh blessed champion io posso raddoppiare l'attacco di un minion ok quello è buono allora per adesso allora fiola me la tengo si gioco le le spade così faccio pescare una carta assassinate ok è già il terzo quanti ne ha riportatelo per cinico l'iroi mattato cosa ma sai che combo che possiamo fare con le magie ah si ci vorrebbe qualche modo per passare le magie da un giocatore all'altro non sarebbe male come idea allora io qui vorrei giocare all'ora col però poi vado a 9 9 sì 9 con la prossima 10 dai ora no però se tu uccide l'order però vai a ti milla ti milla ah ragione e allora possiamo fare coin zombie show vai 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 fallo assolutamente buono vai te lo spacco il loot no lo tengo qui vediamo è uguale ok cominci a farmare io ho pescato un'altra raddoppia l'attacco di un minion e uno scudo quindi faremo una cosa così sì questo è ottimo che bella la musica non abbiamo mai giocato a questa carta vai sarebbe comoda quella che quando usi una magia fa 3 danni che gli risparano ogni volta addosso magari quella farebbe veramente comodo e questo è passato a 6 nel frattempo ah da 6 cristo ma se cominciamo ad essere low io ho due cure in mano da 6 di vita quindi io ho la seconda light quindi il secondo narum quindi 6 di cura ah buono perfetto vabbè poter eroe dai al limite ok che puoi fare sto turno iniziamo a fare così guarda esatto questo è buono che così Mairi mi lascia viva la la Bane quella nel frattempo inizia a pomparsi facco pure questo esatto sì che così peschi la carta si ma conviene spacca tutto se no non iniziamo più ma non lo so perché secondo me ha qualche modo per fare danno sì sì ha soldato sull'assassinate boh vediamo ah io potrei giocare Stalag ma non è male ma non è male lo scudo divino non so se proccarlo o se ma così così lo tengo però no tieni lo tieni assassino ok adesso eh cavolo se non avesse assassinate potrei mettere gli scudo divino e raddoppiargli l'attacco eh ah sì ok facciamo una cosa così ah buono anche questo ma che vuoi attaccare mi sa che lo tengo che dici secondo me ha usato assassinate sai però eh può essere perché forse c'ha un ciclo allora ha preso due d'attacco assassinate ma non riesco a capire se ha un ciclo no ma non credo il double adesso sai secondo me proviamo perché io credo che se c'è un minion con più di 7 di attacco fa assassinate in automatico o 5 o 7 di attacco può essi quindi mi conviene attaccarlo magari comunque curati però vediamo bomb salvo what ma perché 8 le danno è assurdo la legna che faccio però io adesso lei qualcosa io ti direi tipo di fa eh no questo non c'è così eh magari se gli era doppio l'attacco più hai un altro di my shield no questo così vai bene bene almeno lo teniamo un altro di minchia però sti 8 damage aia aia tot dolori no comunque non ha un ciclo adesso l'ha usato due volte quindi mi sa che è proprio totalmente random forse con qualche regola sugli assassinate ma allora facciamo così oh garrison buono ok vai almeno siamo sicuri che sta in vita ah no non che è proprio lei non si poteva via la pedina l'ho visto un attimo in ritardo allora eh questo non ci voleva però comunque l'assassinate fa zia random perché ci aveva treddo attacco alla fine si 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 provare è infatti probabile io avrei un guardian of kings per curarmi e buttarmi in un po' più grosso oppure refreshment vendor più pedina non lo so io direi refreshment più pedina perché almeno se tira un altro assassinate abbiamo più target stupido eh ho capito però come glielo facciamo il danno ma pure tu hai ragione ma magari la lunga vedi poi sai che faccio sai che faccio proviamo una cosa e mi tengo questi che così si fa il danno random oh buono buono ok va bene un po' male però buono che è ancora vivo avrei due però doppiagli l'attacco te lo manderei a 40 così non è male eh no 14 vai tira glielo in faccia la rischiamo ma noi vabbè butta no buttagliela buttagliela vaffanculo lo vogliamo buttare vai allora prima queste così ti faccio pescare vai bra bene che comincia a stare abbastanza corto di carte buttiamo giù pure questo ma no perché ma ok con l'un altro ce l'un altro sì sì no no ste cazzate no ancora dai ok io ho pescato un altro guardian quindi comincio a buttarlo sì sì pure perché sei abbastanza loro io devo resistere fino al turno 10 e poi volendo avrei la possibilità di mandare questo a 10 20 è buono dai sono pochini eh sì ce ne mancano ancora 61 però dai anche se la 20 arriva a 40 hai l'heroi quindi sono 6 arcane pure in mano 10 e io da atta a sto punto io attaccherai un po' con un paio di minion almeno mi tengo le pedine per i danni random vai aia aia inizia a fa male è abbastanza io c'ho cure però o posso curare di 12 sei a me sei a te ok allora qua posso qua facciamo così va intanto aia aia no porca puttana no cal ah ma sto bassino io eh eh 5 è rischiosa no c'ho lord walker no quello è fantastico con le magie però io me le so buttate tutte ma che ti potrei dare io e te posso dare quello che raddoppia l'attacco e blessing of wisdom quando attacca pesca una carta e holy light adesso 5 2 7 9 no non te le posso dare tutte allora va bene io lo gioco io lo gioco facciamo così metto questa e ti do una cura lo puoi mandare a 20 oh mamma mia i danni che possiamo fare i danni che possiamo fare tu puoi fare Garyson hero power blessing teoricamente no tieni due mana per la cura però effettivamente è vero per la continuiamo a passarci la cura eh sì faccio il convegno eh sì anche perché stiamo sotto almeno io stavo sotto l'etal 14 io sto a 12 quindi due le possiamo usare qua 26 sta a 32 e poi ti do pure questa buona ma perché non gli hai raddoppiato l'attacco però ma come destrói ma perché perché no volevo aspettare perché almeno se riusciamo a curarci un altro po' lo alzo ancora di più destrói l'or worker cioè ma c'è proprio una carta specifica ma è fantastico aspetta allora ora posso fare male 4 6 no mi manca uno di mana io gli posso dare se ci ammazza quello di champion è persa ma sai che faccio aspetta sai che faccio io questo ok c'è la rendiva in shield eventualmente eh magari che lo faceva cosa buono almeno quello guadagna altre due due d'attacco è stato aspetta sta a 12 no a 11 beh io lo posso raddoppia quello del dell'oli champion non sono l'ammazza quindi potrebbe essere 42 è buono sai che forse ci riusciamo se non ce l'ammazza vinta e dovresti averli 50 sì 40 e 13 53 dai dai abbiamo fatto vai così allora non favo cazzate aspetta aspetta allora allora innanzitutto mi curo e aumenta ancora l'oli champion più grosso della storia hai probabilmente anche il trogg più grosso della storia mamma mia sono immensi 13 saremo no ha fatto lo stampo quando è morto vabbè no vai vai fallo uno sull'oli champion 44 d'attacco l'oli champion mamma mia enorme vai combo combo assurde comunque è una starissa e via è stato impegnativo però te le faccio dare ma davvero ma veramente non pensavo fosse fosse così pesante questo boss è stata buona è veramente carina comunque dai da giocare così in due che ti scambi le carte insomma riesci a parlare anche è un'idea veramente buona per le risse future speriamo che insomma la wizard riesca a sistemare un po' anche il fatto di avere c'è due mazzi forzati vedremo un attimo insomma come si evolverà le risse future però l'idea di base è veramente veramente bella assolutamente forse è l'intelligenza artificiale da da rendere un attimino più un pochino più con una scelta un pochino più ampia di decisioni e un po' meno randomica magari e la scelta dei mazzi sì assolutamente sarebbero due componenti molto molto cioè potrebbero rendere questa questa modalità davvero una modalità a sé stante cioè divisa ancora proprio dalla brawler rendere proprio una vera modalità cooperativa del gioco esatto veramente 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 bella guarda sono piacevolmente sorpreso stavola devo ammettere anche io adesso vedremo cosa cosa diranno i nostri amici nelle prossime partite le opinioni anche di tutti gli altri e quindi a tra poco rieccoci qua adesso siamo con Nerkios e ci prepariamo alla seconda partita dopo la prima esperienza che è stata molto molto esaltante vediamo se riusciremo a replicare e a vincerle tutte allora ciao Nerkios innanzitutto ciao ragazzi ciao a tutti ok allora prima volta che che ci troviamo a giocare anche insieme noi due è un piacere assoluto veramente poter collaborare con persone nuove è una delle dei più grandi pregi di Element è molto bello si cominciare poi che Airstone ci dia anche la possibilità di fare qualcosa insieme è ancora più figo esatto soprattutto considerando che è un gioco che per tanti è è un gioco a tempo perso e non è un non è un gioco da tryhard come può essere un League of Legends un Counter Strike ma viene preso molto più come casual game e non porta alla e non porta quindi alla alla cooperatività perché tanti giocano mentre stanno facendo altro ma poi anche solo il fatto appunto che adesso con questa cosa qua io spero che prima o poi comincino a implementare qualcosa di cooperativo sarebbe bello vedere una 2v2 come modalità competitiva vera e propria sarebbe una bella arena come c'era non so se tu giocavi a World of Warcraft le arene 2v2 6v3 assolutamente assolutamente erano una delle parti migliori per quanto io non sia un amante del pvp di World of Warcraft nemmeno io in realtà ero più da pv quando giocavo assolutamente per fortuna quella droga lì mi è passata sono passata a questa mi associo anche se ultimamente ho fatto il grosso errore di ricominciare a giocarci ma lasciamo perdere ci sei ricaduto ci sto ricadendo ma con un'altra testa allora pensiamo al gioco io ho in mano il trogg da 4 di mano il Garrison Commander Light of Denaru e Leroy Jenkins quindi questo turno è vuoto direi che si passa esatto premetto che non ho mai giocato prete ah va bene ho fatto una partita col paladino quindi non non c'è nessun problema allora io direi che posso fare monete per uno shielded mini bot direi che ci può stare non mi sembra assolutamente male come giocate anche perché poi ho altri drop 2 quindi ah vabbè esatto dai dimmi la tua mano che così mi faccio un'idea io ho io ho il Cho ho l'Argent Protector ho quello il Seal che dà più 3 di attacco di Vainshield e ho quello che raddoppia l'attacco ok perfetto da quello che ho visto con oh buono non si è aumentato l'attacco da quello che ho visto con con Lama la win condition principale da quello che abbiamo capito è giocare il Lord Walker e spassarci le magie se non erro infatti lui ha un potere non so se deve aver fatto un potere speciale solo per levare il Cho ho riso ma quanto ho riso quando ho visto con la carta non hai idea allora io devo attaccare perché non ho delle buone giocate le uniche cose che posso fare sono Garrison Commander che vorrei però tenere per il turno 6 per poter curare due volte mi sembra giusto e Arcane Golem che a questo punto userei sinceramente si si ci può stare ah però o alternativa Light of Denaru più poter eroe eh si anche ci può stare io tanto non ho non ho un gran non ho carte da turno 4 quindi l'Arcane Golem in questo momento non mi aiuta e allora direi che curo entrambi e passo così arriva di Overclock ok ok in questo momento posso darti scudo divino più 3 di attacco e dobbiamo stare attenti all'Assassinate esatto non lo so se pensi che possa ne ho due facciamo che te lo faccio uno va bene assolutamente se fa Assassinate va bene no no buono bene io a questo punto giocherei il Trog così da avere due threat sul campo si si ottimo ho pescato la Power World Shield però andrebbe a 4 di vita quindi sarebbe comunque in range sinceramente io attacco quasi quasi si lo farei tanto se Volpar Assassinate lo distrugge uguale esatto quindi così cominciamo ad ogni po' di attacco dobbiamo cominciare a stare attenti ai danni che ci farà perché cominceranno a essere tanti allora una cosa buona che potremmo fare per ovviare il suo Assassinate è cercare di potenziare tutti e due i million sul campo si si e ora le tue magie mi potenziano il Trog che è molto buono allora io in questo momento posso fare non ho un turno 4 quindi posso fare o un altro Steel of Champion oppure le spade lanzanti quelle che ti fanno pescare ma a questo punto gioca le spade quasi quasi che teniamo la seconda sil per ora e abbiamo fatto molto molto bene oh buono buonissimo direi io farei una cosa del genere porto questo oltre i 6 punti ferita si e passo vai così come immaginavo come avevo immaginato prima ha a che fare col valore d'attacco del minion perché altrimenti il threat più alto sarebbe stato l'Holly Chemp per il momento quindi possiamo provare a tenerli bassi ma anche cominciare magari a non so uno scudo divino su questo ad esempio che darebbe attacco al trogg non sarebbe male se hai la end of protection ad esempio la end of protection cos'hai il seal of champion però mi dai proviamo dai proviamoci proviamoci dai e poi metto una pedina si visto che da quello che abbiamo visto ha delle mosse che colpiscono randomicamente esatto perfetto pin sized summoner allora io in mano comincio ad avere un po' di danni perché ho esattamente 6 più 8 14 danni con l'Eriah Jenkins e i due arcane golem potrei giocare garrison e doppia cura per ci sta mi potresti anche tirarmi un po' più su perché esatto ma infatti vorrei usare entrambe le cure su di te e andrei così e gli facciamo 10 danni perfetto tu non hai cure giusto? io ho qualcosina ho un un earth and ring in questo momento ok e che credo userò e poi potremmo tu come sei messo magie perché potrei mettere ciò in questo momento io non ne ho magie sinceramente neanche allora non lo metto allora non lo metto dipende mettilo quando mi puoi dare delle magie buone sì ti posso dare adesso vabbè quindi Mari ha il turno 7 con la bless che era doppia sì facciamo anche turno 8 perché c'ho anche l'altro blessing perché non hai scudato il mio perché non posso deve essere friendly è vero ecco un'altra cosa visto che non siamo avversari è una cosa che potevano effettivamente sistemare diventava un po' tanto forte questo forse e non che le altre cose siano da meno alla fine ti posso dare due di mana ti servono uno di mana sì uno di mana mi serve molto ok allora farei uno di mana e doppio euro power mi muore l'odnicampion se attacco eh vabbè non fa niente se facciamo 24 danni ci può anche stare eh no non ne faccio se facciamo 16 danni ci può anche stare tanto ho paura prima o poi arriverà l'assassinate allora ho un'opzione se giocare la lightwell giusto per mettere qualcosa in più sul campo o usare il euro power io farei lightwell perché aiuto un sacco dato che non lo distrugge di assassinate aiuto un sacco però perdiamo due danni ma sì ma non fa niente oppure potremmo anche aspettare ad attaccare e rischiarla sarebbe rischiosissimo ma che dici io ho paura che finisce male però vedi tu rischiamola vaffanculo è arrivato è arrivato vabbè ne è valsa la pena il brivido allora io farei così cominciamo a passarci un po' di magia vai ok proprio tante magie proprio che ti posso passare vabbè quelle che ti do io eh buono buono se non lo distrugge cominciamo a fare male ma sì ma anche se ah sì se non distrugge cosa dici sì io non l'avrei attaccato col 2 l'avrei tenuto al momento secondo me abbiamo abbastanza board da poter rischiare sui ok la domanda è ora buffo il tuo cioè continua a buffare il tuo o ne potenze uno dei miei no buffa il tuo buffa l'arcane ok così deve non può fare un metto un minion per rimpinguare la la board oh buono dai abbiamo tanti danni sono ci siamo abbastanza bene 15 e 30 io ne ho altri 10 in mano siamo a 40 ci siamo vicini eh io ho questo che potrebbe aiutarmi molto allora ho altri 10 danni in questo momento intanto questi li farei vai assolutamente facciamo questi 30 mi curo che così non rischiamo assolutamente facciamo così ok vai minchia 33 cioè qualcosa di allucinante è arrivato tu assassinate hai 10 danni tu io ho 10 danni al momento allora falli che abbiamo vinto vado si oh e via ah cavolo tra l'altro gli eroi ti dà pure due pedine bellissime bellissime ok vinciamo con la carta più bella di tutte io te lo dico mi ha scritto un tvb da da fan d'amore la nostra la nostra cm e un bacio e assolutamente anche noi ti vogliamo bene tanto 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 bene oh vincere di high soul stupendo yes tra l'altro bellissima carta nel mazzo da mettere in un mazzo come questo ci sta un sacco assolutamente allora nerchios che ne pensi di questa rissa a me piace veramente tanto ti trovo davvero divertente e poi giocare giocare con un altro è proprio carino effettivamente come idea quindi speriamo ne facciano altre perché perché è proprio bello è che giocare sono la seconda partita tra l'altro con due vittorie e devo fare veramente sempre di più complimenti alla nostra mamma blizzard per per questa idea allora è stato un piacere e per me alla prossima sperando di poter fare altre collaborazioni e ragazzi ci vediamo al prossimo alla prossima parte del video che sarà probabilmente con secco grazie a tutti